l'italia nel volley è oro con la sua capitana anna danesi di tempi d'oro per il volle italiano con anna danesi al comando il volle italiano ha recentemente celebrato un grande trionfo quando la nazionale femminile ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei sotto i riflettori c'era soprattutto la capitana anna danesi che con la sua straordinaria prestazione e forza di leadership ha contribuito in modo decisivo al successo della squadra l'intera comunità sportiva ha festeggiato questa straordinaria vittoria accompagnata da un notevole orgoglio nazionale anna danesi una delle figure più influenti del volley italiano è stata evidenziata come la chiave per il successo della squadra le sue compagne di squadra e l'allenatore hanno riconosciuto le impressionanti capacità della giovane atleta sottolineando quanto fosse importante il suo ruolo per la dinamica e la coesione del team secondo quanto riportato danesi ha parlato dell'impegno instancabile e della dedizione che la squadra ha dimostrato nei mesi precedenti al torneo in italiano inoltre ha descritto l'atmosfera di sostegno e popularità che c'era nella squadra tuttavia la strada verso la medaglia d'oro non è stata priva di ostacoli la squadra italiana ha descritto la capitana ha dovuto affrontare numerose competizioni intense in particolare prima dell'evento danesi ricordava le sfide che la squadra doveva superare per emergere come campione anche le intense sessioni di allenamento che erano spesso faticose impegnative furono tematizzate dalla capitana ha sottolineato che lo spirito di squadra e la volontà indomita di spingersi oltre i propri limiti erano fondamentali per il successo durante il torneo la squadra ha attirato l'attenzione non solo per le sue performance sportive ma anche per la sua notevole coesione di gruppo danesi ha guidato il suo team dentro e fuori dal campo con un impegno esemplare e un chiaro focus sull'obiettivo comune ha sottolineato che questo era un successo di squadra non solo personale le sue compagne hanno apprezzato in particolare il modo in cui sia nei momenti critici che nelle fasi di successo era una presenza equilibrante e motivante poco qualcuno ha osservato il torneo senza rimanere colpito dall'energia e dal talento di danesi gli esperti di sport e i commentatori hanno messo in evidenza le loro eccellenti giocate e decisioni strategiche che non solo hanno migliorato le prestazioni della propria squadra ma hanno anche tenuto in scacco gli avversari il successo è stato considerato da danesi non solo come un traguardo personale ma come una ricompensa per il duro lavoro dell'intero team la fine del torneo ha segnato non solo la conquista della medaglia d'oro ma anche l'inizio di una nuova era per il volle italiano anna danesi e il suo team hanno dimostrato di essere in grado di brillare a livello internazionale il loro atteggiamento unito a straordinarie abilità ha fatto sognare molti di un futuro promettente per il volle italiano in sintesi si può dire che il trionfo ai campionati europei non è solo un istantanea del successo ma una nuova dimensione per la cultura del volle italiano con anna danesi al comando la nazionale continuerà a brillare sui grandi palcoscenici dello sport con una motivazione ritrovata e un chiaro obiettivo autore anita fache domenica 11 agosto 24